Ma a mezzo alla strada, se tu ti incontri, non ti salutano proprio, non ti salutano proprio, sto sbagliando. Spesso le mie amiche non può, ma tu lo conosci, no, io vengo, ma che sarà l'inizio, ho detto, vabbè, ma non so neanche che, per dire, no? Allora, perciò io chiedevo il confronto, ragazzi, perché una cosa è come lo possiamo vivere noi o le nostre situazioni, una cosa è come lo vivete voi. Per esempio, a me pure dice Andrea, questo giovincello di te, che è uno sportivo e ama lo sport, secondo te è più forte questo nella tua vita, o se ti piacesse una ragazza, ma se tu hai un incontro, è chiaro che ci devi andare, un allenamento, vai, cosa faresti?